L'amante senza fissa dimora di Fruttero e Lucentini Quarta parte Nella sua austera uniforme verde bottiglia con doppia fila di bottoni dorati, che in altri tempi avrebbe potuto indossare un fedele servitore della monarchia asburgica o dello zar di tutte le russie, il portiere Oreste Nava se ne sta in piedi dietro il banco con le braccia un po' allargate, i polpastrelli appoggiati sul lungo piano di Mogano. È la sua posa professionale, acquisita o piuttosto conquistata in quasi mezzo secolo di carriera nei grandi alberghi d'Europa, d'America e perfino Singapore per tre anni, d'Estremo Oriente, ma è una posa che da qualche tempo ha cominciato ad affaticarlo, a fargli apparire sempre più desiderabile il giorno in cui si ritirerà con una sua sorella in un paesetto della Riviera Ligure. Il suo scheletro non è più quello di una volta, Niente del resto è più come una volta, riflette Oreste Nava, seguendo macchinalmente gli andirivieni di una bambina di cinque o sei anni, che saltella silenziosa, concentrata, tra i vasti tappeti dell'atrio. Una volta ci sarebbe stata una nurse, una governess, una schwester, una zia nubile per farla smettere, mentre ora c'è soltanto un padre che sta leggendo il giornale in una poltrona laggiù e se ne lava le mani. La bambina segue sempre lo stesso percorso zigzagante, uno stretto sentiero dove il pavimento scoperto rivela i suoi grandi scacchi di marmo rosso e bianco. Saltella su una gamba sola, a pugni chiusi e testa bassa, e non vede la coppia del 104 che appena sbucata era dietro una colonna e si è fermata a guardare una locandina del teatro La Fenice tagliandole la strada. Lo scontro sarà inevitabile, prevede Oreste Nava senza muovere un dito. La coppia del 104 è formata da un noto presentatore della televisione e dalla sua amichetta del momento, una ragazza gonfia, volgare, infilata in due stivali inverosimili. Quando la bambina la investe, la culona perde l'equilibrio e rovina addosso al compagno, che la sorregge a fatica, lasciando cadere nell'emergenza la sigaretta accesa. Dalle labbra eccessive della ragazza esce un violento sibilo. Stronza. Luigi, il giovane fattorino che sosta presso tre arabi seduti immobili su un divano, si mette a ridere e guarda verso Oreste Nava, che gli restituisce un'occhiata di ghiaccio. Cose simili non fanno ridere. Cose simili non dovrebbero succedere. Non succedevano con la clientela di una volta. Ma Luigi, benché sia un ragazzo svelto e volenteroso, non può capirlo. Non ha colpa se tutti gli esempi, i modelli, i termini di confronto si sono perduti. E non c'è scuola alberghiera, non c'è corso di informatica, non c'è computer che possa sostituirli. Oreste Nava pensa confusamente che dovrebbe farlo lui il lavoro del computer, che toccherebbe a lui premere sui tasti della memoria, spiegare, insegnare, trasmettere la sua esperienza di quasi mezzo secolo. Ed è preso da un luttuoso scoraggiamento che gli fa abbassare gli angoli della bocca, quando confusamente intuisce che gli mancano le parole per esprimersi, i concetti per formulare ciò che pure a lui è così chiaro. Né Luigi né nessun altro sapranno mai quali e quante immagini passino sul suo schermo mentale quando parla di «Una volta». Quel foltissimo, ricchissimo album che è il suo passato non avrà valore per nessuno, sparirà per sempre con lui sulla riviera Ligure. I tre arabi si alzano all'arrivo di un quarto arabo. La bambina, umiliata, è andata a sedersi vicino al padre. L'anziano marito del 216 scende ad agio dallo scalone e si mette ad aspettare la moglie, rassegnato, le mani in tasca. Dall'ascensore centrale escono i due del 421, lui col berrettino inglese e il cappottino di cammello gettato sulle spalle, lei con addosso 20 chili di gioielli veri, una giacca di volpe rossa, i pantaloni neri e le scarpe di coccodrillo. Oreste Nava abbassa ancora di più gli angoli della bocca. Oltre alla borsa pure di coccodrillo, la donna regge una sacca di plastica nera, smisurata ma chiaramente leggerissima, con la griff dorata di uno stilista di successo, che del resto capita spesso qui da Milano, un bel esemplare della nuova classe anche lui. Si deve essere pentita di un acquisto, andrà a restituire un vestito, a farselo cambiare. Oreste Nava vede il giovane Luigi pronto allo scatto per aiutarla con la sacca e simultaneamente vede entrare in albergo l'antiquaria del 308, scarmigliata e luminosa e sempre vera signora, vera principessa, una consolazione in mantella grigia su corto vestito da cocktail grigio. La segue un uomo alto con una valigia e lei si gira a dirgli qualcosa e va alla reception, mentre il caffone pseudo inglese del 421 si stacca a sua volta dalla donna in volpe e si avvicina anche lui alla reception. La volpe e l'uomo con la valigia restano fermi uno di fronte all'altro, separati da tre grandi tappeti. È questione di un attimo. L'inesperto Luigi esita, calcola, misura. Oreste Nava lo vede valutare il vecchio impermeabile, la vetusta valigia sbrucita, l'aria logura del nuovo venuto. Vede la risposta emessa dal computer della scuola alberghiera. Poveraccio, specie di occasionale segretario o più umile sottoposto, possibile questuante, nessun interesse. E vede Luigi schizzare verso la volpe, impadronirsi della sua sacca di plastica col prescritto sorriso di premurosa deferenza. «Imbecille, no!» vorrebbe gridargli Oreste Nava, che in quello stesso attimo ha visto invece... Ma che cosa ha visto esattamente? È difficile spiegare, a Luigi, a chiunque. L'uomo ha posato la valigia e si guarda intorno. Guarda Oreste Nava nel modo appena divertito, appena incuriosito, di uno che qui ci ha già stato, che riconosce, che ricorda. Impossibile provare, a Luigi o a chiunque, che gli abbia davvero rivolto quel millimetrico cenno di saluto, quella limatura di sorriso. Ma Oreste Nava ha registrato l'uno e l'altro infallibilmente e ne conosce il significato. Quest'uomo, chiunque sia, è di quelli che sono a casa loro dovunque, qui o sotto un ponte della Senna o in un club di piccadilli o in una traballante carrozza delle ferrovie indiane, che possono fare a meno di tutto, che non si lamentano mai per il fatto che piove o fa troppo caldo, che non fanno scene perché il gene in lime è tiepido, che non alzano mai la voce, che ti chiedono un servizio e ti danno la mancia con quella minima alzata di spalle, quella implicazione tra ironica e quasi affettuosa, impossibili da provare entrambe, di chi è abituato a considerare la vita una lotteria in cui le parti potrebbero benissimo essere invertite. Un uomo non di mondo, ma del mondo, uno che non ha niente da dimostrare, anche lui con un suo album ricchissimo, prezioso, unico, e anche lui consapevole che non servirà a nessuno, che sparirà per sempre in un villaggio sul Mediterraneo, sul Baltico, sull'oceano indiano, un uomo che sa, un uomo di una volta. Luigi, che non ha visto niente, capito niente, ma non è colpa sua, è ancora sull'attenti presso la porta a reggere la grande sacca nera e lucida, mentre già la volpe dà chiari segni di insofferenza, pesticcia impaziente nelle sue scarpe di coccodrillo. Quando la principessa ritorna dalla reception e l'uomo tira sulla valigia e fa per avviarsi verso l'ascensore, Oreste Nava esce impulsivamente dal banco e in due salti rapidi e tuttavia dignitosi presenta alla coppia la sua duplice fila di bottoni dorati. May I help you, sir? dice con l'aria di confermare un dovere reciproco e tende la mano verso la vecchia valigia che chiamerebbe forse, se avesse le parole per esprimersi, la valigia del suo e di tutti i passati. Ah, ringrazia l'uomo col suo sorriso impercettibile. Oltre che lussuosa, la suite è effettivamente confortevole e accogliente e a Mr. Silvera non costa il minimo sforzo manifestare il proprio apprezzamento. Ci si aspetta da lui che sia contento di questa sistemazione e lui, dondolando una gamba in una poltrona del salotto intermedio, sorride contento, così come farebbe trovando riparo sotto un porticato in un giorno di pioggia o sotto un platano in un giorno d'afa. Ma non tarda ad avvedersi che questa sua buona disposizione verso il contingente, l'immediato, non è attualmente condivisa. La donna che si trova con lui e che pure ha avuto l'idea di questo trasferimento logistico non sembra altrettanto soddisfatta, dimostra irrequietezza, un certo disagio, si muove qua e là, tocca, sposta, come se non sapesse più bene cosa fare di lui, di loro. Oppure, pentita di ciò che ora forse le appare come un'imposizione da parte sua, temesse di avergli lasciato un senso di costrizione, di prepotenza subita. Ne si può escludere che stia al tempo stesso rimuginando nuovi sospetti, nuove ansiose domande circa il passato e il futuro. Comunque sia, Mr. Silvera non ignora che in momenti come questi ogni onesto tentativo di sdipanamento condurrebbe immancabilmente a ulteriori garbugli, ancor più inestricabili delle antiche dispute tra talmudisti. E poiché Mr. Silvera non è né il rabbino Hillel, che stabilì le sette regole della ragione, né il rabbino Joseph Ben-José di Galilea, che le portò a 32, preferisce rischiare nella direzione opposta e puntare sulla salutare semplicità del quotidiano, addirittura del casalingo. Non c'era a Roma un marito, si informa distrattamente, più o meno in attesa di un colpo di telefono? Il suo suggerimento suscita spalancato stupore, da cui subito dopo irrompe una muta marea di gratitudine, ammirazione e statico trasporto. L'offerta di annettere il marito, il mondo reale, normale, a questo felpato territorio precariamente sospeso tra l'essere e il non essere, ha avuto pieno successo. Il marito viene chiamato, trovato in casa, passato, affettuosamente interrogato su questioni di insonnia, di sinusite e quasi talmudicamente dietetiche. Viene poi messo al corrente di tutto ciò che, ad esclusione di Mr. Silvera, sta succedendo a Venezia. Mr. Silvera fa dondolare tranquillo la sua lunga gamba. Si rende conto che questo minuzioso racconto telefonico non è per nulla inquinato dall'ipocrisia, non mirà affatto a nascondere l'indicibile. Al contrario, per slancio, ricchezza di particolari, precisazioni, sfumature, congetture, è identico, nella forma se non nella sostanza, a un entusiastico e un po' prolisso ragionamento d'amore, ne costituisce in certo modo una fedele trasposizione. Nessuno è ingannato, nessuno è escluso dall'intimo, domestico calore di questo consiglio di famiglia a tre. Dal flotto narrativo della moglie, che di tanto in tanto gli getta limpide occhiate di felicità, Mr. Silvera apprende così insieme al marito i primi particolari sulla gran cena di stasera da Cosima, sai Cosima la cugina di Raimondo, e la storia completa della collezione Zwanich, dalla delusione che ha costituito per tutti al sordido epilogo cui ormai si sta avviando. Tramite il faccendiere Palmarin, quel blocco di croste lo comprerà per una miseria la Federen, sai la subdo la Federen, per poi disperderla all'estero sotto chissà quali attribuzioni. Un discreto affare da questo punto di vista. Ma allora perché, deve aver chiesto il marito, il discreto affare non cerca di farlo lei? Ma perché da Fox certe cose non si fanno. E del resto, per la stessa Federen, probabilmente, tutto questo non serve che di copertura a un affare ben più grosso, a un colpo da miliardi, a giudicare da un curioso indizio. Segue la diffusa spiegazione del curioso ma infallibile indizio, e l'ipotesi che il grosso colpo sia connesso con la villa di Padova. A meno che anche la villa serva solo di copertura, sia solo una falsa pista concertata col fraudolento Palmarin, sarebbe bello poterlo scoprire, sventare i sinistri disegni della rivale. Ma come fare? Sì, in teoria si potrebbe pedinare la Federen per accertare con chi è a contatto, ma non siamo di carnevale, farebbe strano andare in giro in maschera a novembre. E poi i contatti è tanto facile tenerli per telefono, no? L'ideale, certo, sarebbe di avere a disposizione una vera spia, un espertissimo professionista magari israeliano. Dicono che siano quelli i migliori servizi segreti del mondo, ecco appunto lo scimbeto e il Mossad. Ma in mancanza di questi, c'è sempre Chiara con le sue conoscenze, c'è Raimondo con i suoi giri pettegoli, c'è la stessa Cosima, benché credulona, benché facile lei stessa da mettere nel sacco. Insomma, non è detto che prima o poi, ma preferibilmente prima, non si riesca a venire a capo di un mistero in fondo abbastanza semplice. Qualcuno a Venezia, da qualche parte, in qualche palazzo, o sottotetto, o sottoscala, o isoletta sperduta, ha qualcosa di eccezionalmente importante, di eccezionalmente prezioso da vendere. Tutto qui. E adesso bisogna darsi da fare. E perciò salutare, raccomandarsi a vicenda di evitare strapazzi, eccessi, ore piccole e vivande indigeste. Salutarsi di nuovo, riattaccare. Mister Silvera si stira voluttuosamente nella sua poltrona. Si è molto annoiato? Niente affatto, al contrario ha seguito con vivo interesse il problema. Un bel problema, no? Un bel mistero. Che opinione se n'è fatto? Può avanzare qualche ipotesi? Suggerire una linea d'indagine che dalle oscenità della Federen permetta di risalire al nascondiglio, al luogo segreto dove si trova il colpo grosso? Mister Silvera tiene gli occhi semichiusi, le lunghe gambe stese davanti a sé e incrociate alle caviglie. Io di queste cose non me ne intendo, dice, e la sua voce sembra sospingere una piuma sospesa nell'aria, ma varrebbe forse la pena di andare a ricontrollare quella collezione tanto disprezzata. Ma è già stata controllata e ricontrollata da una quantità di specialisti, compresi quelli della sovrintendenza, è da quasi una settimana che è lì sotto gli occhi di tutti. Appunto, a volte i nascondigli migliori. La famosa storia della lettera rubata? Già, anche, ma lui non stava pensando a quello, dice Mister Silvera. Il fatto che la vecchia proprietaria stia per vendere per così poco e che sia la subdola Federen a comprare, gli ha fatto venire in mente la famosa storia del rabbino Schmelke. Sai, dice, il rabbino Schmelke di Nikosburg. No, dimmi subito. Questo rabbino, dunque, spiega Mister Silvera, aveva l'abitudine di gettare soldi dalla finestra a tutti i mendicanti che passavano. Per cui, una volta che non c'erano soldi, mise mano ai gioielli di famiglia e gettò a un vecchio il primo anello che gli capitò. Per cui la moglie gli fece una scena tremenda, in quanto la pietra di quell'anello valeva una fortuna. Per cui il rabbino Schmelke si riaffacciò alla finestra e si mise a gridare che ritrovassero quel vecchio. E quando l'ebbero ritrovato, gli gridò Ho saputo adesso che quell'anello vale una fortuna. Stai bene attento a non venderlo per troppo poco. Una storia stupenda, dice con rinnovata ammirazione e statico trasporto la donna che è con Mister Silvera. Per cui, in definitiva, con la duplice benedizione di Edgar Allan Poe e del rabbino Schmelke, si lascerà perdere la cadoro coi suoi mirabili affreschi del Pordenone e si tornerà invece al portoncino di Quercia coi suoi prestanti portinai, i quali, chissà poi che non siano anche loro in combutta con la federe nel palmarin ai danni della vecchia Zwanic, per ricontrollare se tra quei quadri di scarto non si nasconda un tiziano. Fui io a notare il chiodo, ma non posso certo farmene un merito. Se fosse dipeso da me, non mi sarei accorta di niente. La mia idea, del resto, nel tornare in quel locale gelido tra le buie croste della collezione, non era stata veramente di cercare il capolavoro nascosto. Quello poteva anche esserci e la mia vivissima simpatia per il rabbino Schmelke mi faceva sperare che ci fosse. Solo che l'unica cosa veramente degna di essere esaminata, al buio e alla luce, di dentro e di fuori, restava per me Mr. Silvera stesso. Era come un quadro d'autore sconosciuto ma di qualità eccezionale che avessi avuto in consegna per studiarlo, cercare di riconoscerne l'epoca e la scuola, arrivare all'esatta attribuzione. Ma per quanto tempo ancora avrei potuto tenerlo? Trovammo soltanto uno dei nipoti, l'altro era in giro per la città con la sua ragazza arrivata da Milano, ci spiegò il rapato venendo ad aprirci. Me lo ricordavo più bello, più yummi yummi, e la sua freschezza mi fece ora pensare a un cespo di lattuga, rugiadosa e insipida. Ci accompagnò fino al locale senza finestre, accese le due lampade spot e ci lasciò soli. Doveva, disse, tornare di sotto a studiare. Era un indizio di innocenza, feci notare a David. Se ci fosse stato qualcosa che non dovevamo scoprire, il ragazzo sarebbe rimasto con noi a controllare ogni nostra mossa e occhiata. Ma poteva darsi che né lui né il fratello ne sapessero niente. Come poteva darsi, al contrario, che quella dimostrazione di non curanza fosse studiata apposta per dissipare qualsiasi sospetto. Anche questo è vero, ammisi. Parlavamo sottovoce, da agenti segreti del Mossad, ma più che altro per gioco. Neanche David sembrava prendere troppo sul serio la nostra ricognizione. Quanto a me, restavo dell'idea che la cosa più seria da fare e che feci, in quella scatola remota e silenziosa, fosse di stringermi appassionatamente a mister Silvera. Strada facendo, avevo scoperto una Venezia ovvia, eppure a me e all'austero cicerone di Burkhardt, alle fredde pietre di Ruskin, alle sbrigative liste di Berenson, del tutto ignota. Una Venezia di frequentissimi anfratti, portichetti, angoletti oscuri, minuscoli campielli deserti, calli quasi segrete, di cui sarebbe stato delittuoso non approfittare via via per stringersi appassionatamente a mister Silvera. Quei luoghi appartati erano lì apposta, capivo infine. E mi spiegavo la fama che si era fatta Venezia nei secoli, d'essere una città propizia agli amori in luogo pubblico. Ben che questo sia un luogo privato, dissi riprendendo sobriamente le distanze. Chissà, commentò lui, se qualcuno aveva mai pensato a compilare una guida turistica, una pianta della città da questo punto di vista, a Kissing Map of Venice, la mappa veneziana dei baci o qualcosa di simile, in quattro lingue, con itinerari diversi e uno, due, tre asterischi, a seconda del grado di suggestione dei posti. Sarebbe stato un successo sicuro. Tornai a stringerlo più appassionatamente che mai. «È come un tic, mi scusai, non posso farne a meno e del resto siamo due stupidi spreconi, potevamo restarcene tranquillamente in albergo». Lui si staccò, alzò una mano. «C'è un tempo per baciare», sentenziò biblico, «e un tempo per guardare i quadri». Lo diceva il rabbino Schmelke di Nicholsburg. «Probabilmente, o se no, Rabbi Jacob Isaac, il veggente di Lublino. Ma tu sei religioso? Frequenti la Bibbia?» «Una volta la frequentavo abbastanza». «Ma sei anche osservante, ortodosso, il sabato non lavori, eccetera?» Glielo chiesi come gli avrei chiesto se giocava a scacchi o se preferiva il taccinese a quello indiano. Ma risultò invece una di quelle domande che avrei dovuto non fargli, perché, dopo una pausa incerta, si limitò a dirmi sorridendo che passando da Leida, una volta, era andato a trovare Spinoza a Reinsburg. «Ho capito», dissi io. Avevo capito solo che non voleva rispondermi, dato che, quanto a Spinoza, ne sapevo ancora meno che sul Pordenone prima che me lo spiegassi il marito della moglie Rana. «Beh, coraggio», dissi dando un'occhiata in giro. «Cominciamo questo controllo». I dipinti erano tutti su tela e nessuno aveva la cornice, dovevano averla perduta nel famoso trasloco del 1917. Per cui non mi fu difficile cominciare a staccarli dai loro vecchi e arrugginiti chiodi per dare un'occhiata anche al retro. Una tela di lino d'alta epoca, come quella dell'ipotetico Tiziano o quantomeno Palma il vecchio che stavamo cercando, è subito distinguibile da un canovaccio del Settecento se non è stata rintelata, e così pure un telaio se non è stato cambiato. Mentre io mi dedicavo a questo esame tecnico, David andava avanti da libero turista e guardando per conto suo come gli avevo chiesto. Solo a giro finito avrebbe dovuto dirmi se uno dei quadri, per una ragione qualsiasi, l'avesse insospettito. «Io non volevo influenzarlo in nessun modo», gli avevo detto senza stare a spiegargli di più. «Non potevo confessargli che contavo sul suo fiuto di inesperto, esattamente come al Casinò, il sistemista sfortunato tende a fidarsi superstiziosamente del novellino». Ma era poi così inesperto, mister Silvera, se vent'anni fa era già qui a studiarsi gli affreschi di Santo Stefano? Lo guardavo passare di crostoso e incrostoso paesaggio, ritratto, soggetto biblico o mitologico, con un'aria infelice che coincideva al millimetro con la noiosità, la concentrata nullità e sciatteria dei dipinti. E dovetti farmi forza per non piantare subito tutto, correre a riabbracciarlo, portarlo via di lì. Stavo riappendendo un giudizio di Paride di totale improbabilità, nel senso che Paride, di fronte a tre donne come quelle, avrebbe dovuto girare all'istante sui tacchi e andarsene, quando mi accorsi che David, al contrario, non si muoveva più dal punto in cui era fermo già da un po'. Aveva scoperto qualche cosa? Voltai appena e cautamente la testa per non distoglierlo dalla sua contemplazione. Quello che stava guardando era un ritratto a mezzo busto e di dimensioni ridotte, sui 40x30 cm, in cui, da dov'ero, non potevo distinguere che una smorta faccia su fondo buio e una specie di macchia giallastra in basso a sinistra. Poi mi tornò in mente che il ritrattato era un giovane già mezzo calvo, dai tratti pesanti, avvolto in uno scuro mantello, che avevamo notato con chiara, soprattutto per la rozza e dilettantesca legnosità del panneggio. La macchia in basso a sinistra era il campo d'oro d'uno stemma gentilizio a me ignoto, con in mezzo, se ricordavo bene, due spighe incrociate. Nient'altro che potessi ricordare giustificava la prolungata sosta di David, il quale a un certo punto passò al quadro seguente, una pomposa, grottesca, sacra famiglia, ma poi tornò al ritratto di gentiluomo e lo guardò ancora un momento prima di terminare il suo giro. Quando mi tornò accanto, ero quasi arrivata anch'io al quadro sospetto. «Trovato qualche tiziano?» chiesi. «Ho paura di no. Trovata qualche tela di fiandra?» «Nessuna. E tutta la collezione a rivederla mi è parsa ancora più infame di ieri. Non capisco la Federen cosa possa sperare di ricavarci anche portandola all'estero. «Già, ma allora perché la compra?» «Solo il rabbino Schmelke lo sa. Ma tu non hai notato proprio niente di speciale?» «Fu forse questa insistenza o il fatto che non potei impedirmi di girare gli occhi verso il ritratto a fargli capire che avevo notato la sua strana sosta. Altrimenti mi chiedo ancora se mi avrebbe detto niente. «Ma dai magari un'occhiata a quel giovanotto?» disse. Andai a staccare il quadro e lo guardai, lo rigirai, l'esaminai da tutte le parti. Tela e telaio erano del solito 700 avanzato se non addirittura del primo 800 e come fattura era perfino peggiore degli altri. Quanto al personaggio, appena emergente dal fondo scuro, non aveva niente di particolare tranne la pesantezza dei tratti, accentuata da una cicatrice sul mento e due verruche sul labbro superiore. Il mantellone in cui era goffamente drappeggiato avrebbe potuto essere di qualsiasi epoca e le due spighe in campo d'oro non corrispondevano a nessuno stemma che conoscessi. «Strano!» dissi. «Trovi anche tu?» «No, strano volevo dire che tu sia stato tanto tempo a guardarlo ma perché? Ti era sembrato tizianesco?» chiasi imbarazzata. Mi rendevo conto tutto a un tratto che con la mia fiducia nel suo fiuto di inesperto l'avevo incoraggiato troppo facendogli fare in definitiva una cattiva figura. «È vero che...» cercai di rimediare. «Il mantello potrebbe anche essere del 500 ma...» «No!» disse imbarazzato anche lui «Non è che mi sia sembrato tizianesco né altro è che mi sembra falso fatto adesso voglio dire». Lo guardai sballordita riguardai il quadro rialzai casualmente gli occhi al muro da cui l'avevo staccato e fu a questo punto che mi accorsi del chiodo o meglio non proprio del chiodo che era vecchio e arrugginito come gli altri ma del fatto che non aveva intorno come gli altri quell'aureola di ruggine che ogni vecchio chiodo lascia con gli anni su ogni vecchio muro «Un infilato!» pensai arrossendo non più di imbarazzo ma di vergogna altro che inesperto vero o falso che fosse il quadro David era andato dritto al solo pezzo veramente dubbio veramente anomalo della collezione staccando anche la sacra famiglia e le altre tele che restavano verificai che il solo chiodo senza alone era quello del gentiluomo e mi accorsi che la stessa impronta rettangolare sul muro era diversa qualcuno si era data la pena di schiarire l'intonaco dietro il quadro ma la differenza saltava agli occhi non c'era dubbio che il verruccoso personaggio fosse lì da pochissimo tempo «È proprio un infilato!» dissi «E cioè?» disse David «Dovetti spiegargli perché lui negò di saperne niente che quando una collezione più o meno nobile e antica viene messa in vendita spesso se ne approfitta per infilarci appunto dei pezzi di tutt'altra provenienza ma chi poteva aver avuto interesse a infilare tra le altre croste una crosta simile a meno che improvvisamente eccitata mi figurai la federe nel palmarin che con la complicità del rapato appendevano tra le squallide tele della collezione Swanish un tiziano autentico per mimetizzarlo così agli occhi della sovrintendenza e poterlo esportare ufficialmente insieme al resto non sarebbe stato il primo caso dissi riesaminando il ritratto alla luce dello spot e un momento dopo arrossivo di nuovo perché premendo con l'unghia su un angolo della superficie dipinta avevo avuto la prova irrefutabile che non si trattava di un autentico tiziano né di un'autentica crosta ma di un autentico falso fatto adesso come aveva detto David ben che le screpolature ben che le screpolature di un preteso 700 sembrassero perfettamente genuine la pressione dell'unghia aveva lasciato il segno sulla superficie ancora molle dipinta non più di qualche settimana prima ma tu balbettai vergognosa umiliata e passando da una sconfinata ammirazione a nuovi sconfinati sospetti altro che Mossad altro che romanticherie mister David Silvera l'ex guida turistica l'ex attore ambulante l'ex commesso viaggiatore in gioielli di fantasia non era in realtà un super esperto inviato segretamente a Venezia da qualche grande museo americano ma tu come te ne sei accorto ah disse come era prevedibile lui più tardi mentre tornavamo verso l'albergo ed ebbe avuto tutto il tempo di inventare una delle sue storie mi spiegò di aver riconosciuto nel giovanotto calvo un certo fugger da lui incontrato a Venezia in altra occasione e che ne aveva ovviamente dedotto la falsità del quadro ma non aveva la minima idea del perché fosse stato aggiunto alla collezione quanto all'ammonimento di Rabbi Schmelke beh disse contrito anche i rabbini possono sbagliare capitolo settimo la corpulenta coppia hamburghese del 219 che mantiene anche a Venezia l'abitudine del Frustuck alle 12 e 30 rientra con gli occhi un po' lustri per il pinot grigio e gli abbondanti bigoli ingeriti ritirata la chiave si avvia verso la dormitina pomeridiana che servirà a smaltire anche i troppi Tintoretto e Tiziano ammirati fino alla cecità il giovane Luigi corre a chiamargli l'ascensore con la speranza ad una mancia non la riceve e voltandosi con una smorfia a Oreste Nava sfrega contro l'indice il polpastrello del pollice per segnalare antifrasticamente dell'assordida avarizia dei due il portiere risponde allargando le braccia quanto basta per indicare rassegnazione ma sa bene che per queste nuove generazioni la rassegnazione non esiste o vincitori immediati del premio o abietti perdenti o il ghigno arrogante del trionfo o il pianisteo rabbioso della delusione toccherebbe a lui a Oreste Nava spiegare che la rassegnazione non è un'anticaglia a uso di preti e donnette ma l'arte delicatissima di muoversi tra i rossi estremi del tutto e del niente il solo yoga capace di sviluppare l'intelligenza il solo karate che consenta di maturare e quindi di sopravvivere tra le bastonate che comunque ti pioveranno addosso lungo la strada nonché di guardare eventualmente alla morte senza proprio farsela sotto dalla paura ma sono concetti complessi ramificati che tradotti in parole da Oreste Nava suonerebbero al suo stesso orecchio assai poco persuasivi una confusa predica da vecchio rincoglionito dallo scalone scende la signora francese del 128 che porta ripiegato sul braccio un indumento pesante e spettacolare un biancastro montone brutalmente conciato lungo fino a terra che conserva all'interno i grezzi e aggrovigliati bioccoli dell'animale ma un altro animale dal manto nerissimo orso è stato usato per l'enorme colletto a scialle che copre interamente le spalle e gran parte del davanti roba nordica artica del tutto sproporzionata al clima di qui e alla taglia piccola minuta della proprietaria la quale ora mentre Luigi le tiene aperta la porta solleva a fatica il massiccio capo e comincia a infilarcisi dentro Luigi si precipita in suo aiuto ma la donna lo respinge arcigna porta a termine la barcollante operazione da sola trotta nanificata fino alla porta e se ne va Luigi si guarda intorno con circospezione poi si stringe rapidissimo il bicipite sinistro con la mano destra e alza di scatto l'avambraccio sinistro a indicare stupro sodomitico ma se l'è voluto pensa Oreste Nava è stato lui a mancare gravemente di tatto a non capire che la signora del 128 deve aver portato a Venezia il suo barbarico mantellone contro il parere di un marito di una figlia e che ora resasi conto del proprio errore morirebbe piuttosto di ammetterlo anche con se stessa qualsiasi offerta di assistenza non farà dunque che sottolineare la sua ridicola mortificazione e verrà accolta come da un permaloso zoppo e accolto il gesto del benintenzionato che vuol dargli una mano ma Luigi non può capire simili sfumature è troppo giovane e poco vissuto per capire qualsiasi sfumatura in verità vede il mondo come un'anguria di cui sa distinguere i colori elementari verde rosso nero bianco le fette più o meno spesse e nient'altro lo dimostra ancora una volta quando la principessa romana e il suo insolito accompagnatore rientrano in albergo ritirano un paio di messaggi telefonici per lei e risalgono alla suite 346 nell'istante in cui le porte dell'ascensore si richiudono silenziosamente su di loro Luigi flette il braccio destro palmo della mano in avanti dita ripiegate e lo muove avanti e indietro a stantuffo per indicare energica attività scopatoria ma chi gliel'ha detto cosa ne sa Oreste Nava risponde agitando la mano aperta davanti agli occhi a indicare scacciamento di fastidiosa musca incapace di vedere più in là del proprio membro il povero ragazzo non sospetta minimamente che in certi momenti della vita in certe situazioni fra certe persone quella cosa diventa un'altra cosa che cosa esattamente difficile difficilissimo anzi impossibile dire la fronte di Oreste Nava si corruga le sue labbra si dischiudono in un platonico sorriso la sua memoria rubista fra antichissime trepidazioni rarefatti velluti musicali lucenti ragnatele acque i riflessi profumi costellazioni in certi momenti con certe donne non più di una due quella cosa uno aveva l'impressione di farla con cieli e oceani con l'intero universo pianeti comete stelle cadenti sì e che c'entrassero anche le formiche le foglie i sassi altro che scopare era talmente un'altra cosa che in certo qual modo diventava addirittura superflua non c'era nemmeno bisogno di farla e al tempo stesso le donne una due al massimo con cui non c'era nessun bisogno di farla erano anche le sole con cui di farla valeva veramente la pena misteri insondabili enigmi da far girare la testa oreste nava volta in su il palmo riunisce a punta le dita e la sua mano oscilla su e giù a indicare commiserazione a esprimere il platonico esprezzante interrogativo ma che cazzo vuoi capirne tu era già inequivocabilmente casa focolare home sweet home aperta la porta sul salotto su quella linda composizione di cuscini cornici schienali tappeti garofani rosa immersa in una luce solidamente diurna appena sfumata dalle lunghe tende leggere l'impressione di un ritorno a casa fu nettissima mi lasciai cadere in una fonda poltrona a fiori spinsi sui tacchi per far scivolare via le scarpe e dissi sinceramente sono morta sinceramente nel senso che dopo aver staccato rigirato e riappeso tutte quelle tele con in più quell'ambiguo risultato mi sentivo frastornata e stanca davvero ma la sincerità è cosa per astronomi per astrofisici retrocede sempre più lontano come le galassie o nebulose che siano osservato al telescopio quel mio abbandono di moglie che crolla esausta sulla prima poltrona avrebbe forse rivelato un alone di teatralità e la stessa frase sono morta non giurerei di non averla scelta e pronunciata in maniera di incantesimo di invocazione magica rivolta al tempo decifrata suonerebbe così fammi provare come sarebbe dopo dieci venti anni la vita in comune con David agitando voluttuosamente le dita liberate mi dissi che il tempo poteva pur darmi una mano farsi mio complice dopo tutto il ladruncolo di minuti sapeva anche essere un generoso dilatatore se in poco più di tre ore aveva trasformato quell'anonimo appartamento d'albergo in un luogo già familiarmente mio nostro a partire di lì gli chiedevo di aiutarmi a provare il sentimento della stabilità della durata la prima indicazione era ovvia e adesso vediamo se ci portano su qualcosa per sfamarci cosa dici certo disse David una ricca natura morta un pranzetto in casa in pantofole così consigliava a questo punto l'astuto apparecchiatore di ricordi l'abile regista del nostro futuro immediato non hai da metterti un golf qualcosa suggerì per perfezionare la cosa lui mi guardò un po' sorpreso se ne andò in camera sua aveva finito per non dirmi se frequentando l'equivoco Spinoza si fosse o no allontanato dai precetti della cucina cashier e per stare sul sicuro ordinai una natura morta di salmone omelette verdure crudele più miste possibili frutta fresca noci dubbio il salmone era un pesce senza scaglie rialzai il telefono ma no che stupida le aveva le aveva rimisi giù e filai anch'io a vestirmi da casa in realtà non avevo con me niente di adeguatamente trasandato sformato e i miei due golfini non facevano una piega impossibile comunque competere col cardigan di David quasi trasparente ai gomiti i due taschini slabbrati il terzo bottone appeso a un filo un trionfo di durata va bene così perfetto ci sedemmo uno di fronte all'altra e io sempre sentendo il tempo dalla mia provai a dilatare la scena verso gli anni a venire a riempirla di innumerevoli frantumi di vita ancora virtuale provai a guardare David con occhio post innamorato certo saresti un po' tutto da rivestire osservai spassionatamente lui risali con gli occhi lungo i pantaloni lisi tirò su il pendulo bottone del cardigan lo scrutò sospirando già non ho mai il tempo di occuparmene o forse è solo pigrizia quello dopo te lo sistemo io ma so farlo anche da me so fare molte altre cose di questo genere rammendare cucinare stirare perfino rattoppare scarpe il perfetto uomo di casa e il perfetto vagabondo pensai il perfetto soldato il perfetto carcerato sei mai stato sposato? una volta secoli fa disse con l'aria di frugare in un passato vecchio addirittura di millenni e scivolò nelle brumose intermittenze dell'inglese per precisare but no not really sort of there were difficulties e intanto mi viene in mente un'altra difficulty notai ridendo per stasera non hai niente da metterti è vero è vero sono impresentabile ma posso restare qui ad aspettarti ma neanche per sogno o se no allora non ci vado nemmeno io ma non hai insistito per farmi invitare? appunto ho insistito e perciò senza te non ci vado puoi trovare una scusa a dire che io ho dovuto partire improvvisamente? no inventerò una scusa anche per me oppure domani le dirò che credevo fosse per domani che ho sbagliato giorno o un'altra cosa qualsiasi tanto Cosima è una sciocca non vedo a cosa c'entri la sciocchezza di Cosima lo so non c'entra ma lasciamelo dire proiettai nel futuro quel grumo di irritazione quell'infinitesima cellula di litigio coniugale si sarebbe moltiplicata mostruosamente fino a renderci impossibile la vita in comune mi sforzai di vedere pranzi e arcigni cene al monosillabo al colpetto di tosse e magari il velenoso bruco del rancore che risaliva la memoria a scatti gibuti ritornava fin qui per rinfacciare già da quella prima volta a Venezia avrei dovuto capire che tu sei non sei hai non hai occhi accesi voci aspre e l'amore polverizzato un'antica tomba svuotata dai ladri no no per carità cosa no ma arrivò il cameriere col carrello e non si racconta un viaggio agli inferi davanti a un estraneo mentre il ragazzo apparecchiava silenziosamente sul tavolino da gioco tra le due finestre evocai con un brivido altre futili discordie a proposito di una chiave smarrita di un ritardo degli spaghetti da me adorati e da David no un continuo logorante andirivieni di carta vetro quando ci mettemmo a tavola mi era passata completamente la fame scorgevo nel telescopio la cosmica inappetenza di una lunga routine matrimoniale che cos'hai? niente moglie nervosa marito ottuso anche le nostre parole prendevano mogi colori di muffa ma avevo spinto il gioco troppo in là quel silenzio ostile mi si ruppe in una risata no è inutile non funziona occupiamoci di questa bella natura morta era un gioco cretino marito e moglie disse David come i bambini beh ho cercato di far stare vent'anni in venti minuti volevo vedere noi due come una di quelle vecchie coppie che restano insieme per inerzia litigando continuamente per futili motivi ma ci sono anche le coppie che non litigano dopo vent'anni peggio ancora si sopportano no io credo che purtroppo il tempo no time mi interruppe lui no time non c'è tempo equivocai no disse dopo il no c'è la virgola e time ha la maiuscola no time thy pyramids è una specie di apostrofe ed invettiva contro il tempo e le sue piramidi fatte solo per ricordarci che noi non siamo immortali che per noi tutto cambia e tutto si cancella concentrò lo sguardo sul secchiello del vino poi lo rialzò su di me ma come se non mi vedesse o piuttosto con l'aria di introdurmi in punta di piedi nei recessi di un polveroso teatro di sistemarmi nell'angolo di qualche affresco buio e solenne noto a lui solo ma io dice il poeta non cambierò mai no time thou shall not boast that I do change la sua voce sommessa distante che sembrava esibire ironicamente un pizzo ingiallito in un cassetto un gioiello ritrovato per caso mi dette quasi i brividi e insieme violentissimo accecante un ictus di gelosia no tempo non ti potrai vantare che io cambio l'ha presi per una dichiarazione d'amore eterno a me galantemente dedicata solo che non ero io non potevo essere io la prima donna a cui mister silvera faceva omaggio di quella indovinata citazione sentii l'attore il seduttore non mi venne in mente che quei versi potessero avere un altro senso nascondere una confessione chi è? Shakespeare? Milton? Shakespeare uno dei suoi sonetti d'amore e bravo il cicisbeo cui le piramidi del tempo non facevano né caldo né freddo cui veniva facile promettere amore e passione in secula saeculorum amen avevo chiesto il sentimento della durata e lui prontissimo mi serviva il suo Shakespeare la certezza di non essere di non poter essere la sola unica e definitiva donna di mister silvera mi sembrò la cosa più terribile che mi fosse mai capitata nella vita che hai? stavo per rispondere niente con l'annessa alzata di spalle ma era meglio dire la verità sono gelosa ah disse mister silvera che perdita di tempo sempre il tempo con le sue menzognere piramidi qui feci il secondo errore per la folle paura che lui si mettesse a raccontarmi su mia folle richiesta dei suoi amori passati e presenti presi io la parola tumultuosamente dal salmone alle noci di quello che dissi mi è rimasto un ricordo confuso e disperatamente negativo di scomposta nuotatrice controcorrente il tutto che volevo tirar fuori si riduce a qualche incongrua opinione su un re ilir visto a Coimbra su Madame de Stal su una festa che avevo dato il mese prima a Roma e a pochi laboriosi aneddoti d'infanzia la morte d'un cagnolino nero una zia inglese che dormiva in un box accanto ai suoi cavalli una compagna di scuola niente interessante che mi faceva dei dispetti niente interessanti risento la mia voce garula che parla di me che incalza a casaccio senza ordine senza armonia senza senso quella una donna capace di competere con tutte le altre donne di sfidare le piramidi quella una vita mi avvilisce l'idea ma non è propriamente un'idea è come una cicatrice d'idea di aver malamente tradito me stessa né mi consola pensare che non soltanto la mia ma qualsiasi vita è così un premere formicolante incalcolabile che poi messo alle strette si risolve in rivoletti incolori ma quello che non posso assolutamente perdonarmi è che col mio sproloquio gli impedì in pratica di parlare era il momento le piramidi erano il segnale il primo avvio ne sono sicura se l'avessi intuito se fossi semplicemente rimasta zitta si sarebbe infine aperto con me e non come fece poche ore dopo a mia umiliazione nei secoli dei secoli con quella sciocca quella scema di cosima il caffè è stato bevuto il carrello ritirato dal cameriere qualche telefonata di routine è stata fatta seduto in quella che lo ha stabilito lei è già la sua poltrona mister silvera finge di leggere un giornale piramidi o non piramidi questa ostinata lotta contro il tempo gli pare vana e contraddittoria lei vuole opporre gli splendori di un amore fulminio travolgente come un verso di shakespeare alle inevitabili opacità di una relazione stabile e tuttavia come lui ma il suo caso è diverso la stabilità per lui è l'eccezione si sente attratta da queste stesse opacità le provoca le mette in scena non sa rinunciare agli spiccioli affettuosi del consueto del permanente vuole la placidità prossima alla noia di un pomeriggio di novembre in casa vuole il fruscio rassicurante dei fogli di giornale i fatterelli della cronaca cittadina gondolieri corrotti gli comunica ora facevano le consegne di cocaina in gondola tu pensa dei due quotidiani che l'albergo offre in omaggio ai suoi clienti italiani ha scelto per sé il gazzettino locale lasciando a lui l'altro mmm fa mister silvera come uno profondamente assorto nella lettura in realtà non ha letto né leggerà una riga perché nella sua particolare condizione le ultime notizie hanno smesso da molto tempo di interessarlo si mette in tasca a volte qualche quotidiano o settimanale raccolto su un sedile d'aereo o in uno scompartimento di treno in un atrio d'albergo ma solo per sfogliarlo con blanda curiosità più tardi a distanza anche di luogo come una specie di souvenir ormai al riparo dalla mutazione dei giorni niente invece gli sembra più noioso più invecchiato del giornale di stamattina ma si presta volentieri a questa come alle altre finzioni di lei che lo commuovono e anche lo divertono si lascerà riattaccare il pendulo bottone del cardigan uscirà a cercare qualcosa di presentabile da mettersi stasera scorterà la prestigiosa dama al ricevimento in casa di questa sciocca di questa cosima c'è stato un incendio alla giudecca viene ora informato un gatto rifugiato sul cornicione è stato salvato dai pompieri si rassegnerà ad essere esibito scrutato commentato perché gli è chiaro che l'insicura dama non vuole se non in minimissima parte portarselo appresso per vanità non lo considera una conquista da mostrare all'invidia del mondo il bisogno che prevale in lei è senza dubbio quello naturalissimo di fornire dei testimoni spassionati a una passione troppo privata troppo intensa e perciò incredibile e inoltre si industria per condividere con mister silvera il maggior numero possibile di cose per far stare vent'anni in venti minuti come ha detto lei stessa è mancato ai suoi cari pietro lorenzon ragazzo del 99 con la sua bella fotografia formato tessera gli annuncia ora mister silvera sbadiglia in buona fede questi necrologi dei giornali di provincia continua lei saranno un po' lugubri ma devo dire che a me non dispiacciono trovo giusto che anch'io sappia per un momento che faccia aveva rosa minetto casalinga di anni 56 dopo tutto è interessante eh fa mister silvera guarda qui questo non trovi che somiglia al tuo amico fugger fugger quello del ritratto falso l'incomprensibile falso gentiluomo guarda si alza e viene a mostrargli la rubrica costellata di desolanti fotografie anziani e anziane vegliardi una bambina e un giovane sui 30 anni che somiglia a pochissimo per non dire niente al ritratto di stamattina Aldo Scalarin di anni 34 impiegato legge lei non trovi che gli somiglia già mente mister silvera il naso effettivamente ma tu dice lei non potresti raccontarmi qualche cosa di più su quel fugger qualche cosa che possa spiegare come sia finito nella collezione su anic non riesco assolutamente a capirlo posso dirti che quando l'ho conosciuto si occupava di contrabbando di cocaina di diverse droghe ma è davvero tutto quello che so fa la sospettosa dama fissandolo la sigaretta scivola dalle dita di mister silvera va ad annidarsi in un taschino del cardigan e prima di essere estratta ha il tempo di causare un buco nerastro di proporzioni insanabili grande è l'agitazione della soccorrevole dama estremo il suo sdegno no ma non è possibile guarda in che statua ridotto strappa il bottone semi staccato saggia sprezzantemente la resistenza dei due slabbrati taschini non c'è più niente da salvare qui bisogna proprio che ti decidi a buttarlo mister silvera annuisce con aria contrita a meno che tu non abbia qualche speciale motivo per conservarlo no no nega decisamente mister silvera nessunissimo motivo tenerissima è la premura della generosa dama mentre gli dice allora adesso quando usciamo a tenere regalo uno io non sai quanto mi farebbe piacere posso mister silvera dichiara che il dono riempirebbe di gioia anche lui si toglie il decrepito indumento e intanto cerca di ricostruirne l'origine se chissà quando chissà dove l'abbia comprato lui stesso o se in un'altra città in un altro tempo gli sia stato regalato da un'altra donna per non essere dimenticata il ghetto di venezia che ha dato nome ai ghetti di tutto il mondo è oggi appena distinguibile dal resto della città le sue scuole di diverso rito italiano sefardita asche nazi si confondono col resto degli edifici botteghe esoticamente ebraiche non se ne vedono e se capita di incontrare una figura dalla lunga barba e dal cappello nero a larghe tese è molto probabile che si tratti di un rabbino americano in pellegrinaggio turistico questo sapevo e pensavo mentre il taxi gorgogliava sommessamente per quei mortificati avvizziti canali minori che fanno pensare alle rughe nascoste dietro l'orgogliosa facciata di un lifting non ero mai andata di proposito nel ghetto ci ero passata un paio di volte per caso e quel poco che c'era da vedere l'avevo visto eppure è ancora presto andiamo a fare un giro nel ghetto mie le parole mia la voce mia l'idea perché? ma perché adesso c'era David per rivederlo con David ovviamente dopo Chioggia niente che avessi visto senza di lui mi pareva che contasse o addirittura esistesse più tutto andava tratto dal limbo preamoroso e riveduto controllato dal lago di Costanza a una merceria di Ruelepic a Montmartre dal Canada occidentale a quel giardinetto che c'è dietro San Celso a Milano una verifica vertiginosa ma perché cominciare proprio dal ghetto? devo rispondere che non so più non distingo più non posso escludere niente tutto mi sembra retrospettivamente fortuito e insieme intenzionale innocente e insieme premeditato sia da parte sua che mia io forse fui anche spinta dal desiderio sentimentale e totalmente privo di senso di vedere David nel suo ambiente per così dire nel suo mondo come se ci potesse essere un qualsiasi legame speciale tra lui e il ghetto di Venezia come se sbarcando dal motoscafo al ponte delle Guglie mi aspettassi una folla di mercanti di prestasoldi di cabalisti di bambini di donne in lunghi abiti scuri che gli correvano incontro guidati da Rabbi Shmelke o da Jacob Isaac il veggente di Lublino facendogli si festa in tutte le parlate i dialetti della diaspora ma dalla porta del ghetto apertura insignificante tra me ste case non usci che un piccione a passi titubanti e io mi sgomentai all'idea che di quel suo mondo David ne sapesse ancora meno di me o di ritrovarmi al contrario davanti a un muro di silenzio voluto come nel caso degli affreschi staccati del ritorno in corriera da Chioggia o del misterioso Fugger fu a questo punto che lui mi disse dell'antica fonderia o getto pronunciato ghetto dagli ebrei tedeschi che aveva dato nome al quartiere cosa già nota a me e a qualsiasi comitiva ecco pensai avvilita non sa o non vuole proprio dirmi niente aggiunse invece che nel gergo giuraico veneziano già verso la metà del cinquecento ghetto si diceva chaser ah sì chaser ripetei sollevata e mi sollevarono mi confortarono altre notizie curiose cui non mancai di aggiungere i miei ricami fantastici seppi che per decreto della repubblica la comunità doveva stipendiare un trombettiere cristiano incaricato di segnalare ogni sera la chiusura delle porte oltre a quattro guardie che per tutta la notte pattugliavano in gondola i canali di confine e vidi devidi in un lungo mantello che si calava da una finestra saltava in un barchino e scivolava silenzioso verso chissà quali convegni che fuori del ghetto gli abitanti erano tenuti a portare una berretta gialla intravidi in orridita David con quell'umiliante copricapo anche se poi in pratica ben pochi rispettavano quell'obbligo ah meno male che i medici ebrei erano richiestissimi e liberi di andare e venire quando e dove volevano senza che nessuno si sognasse di fermarli arcini e pattuglie notturne si inchinavano a David alla sua nera valigetta che finalmente con l'arrivo di Napoleone nel 1797 le porte erano state divelte fatte a pezzi e bruciate mentre la popolazione festeggiava l'evento attorno all'albero della libertà anche alcuni rabbini trascinati dall'entusiasmo avevano ballato allegramente con gli altri non David che da una cantonata contemplava la scena sorridente ma distaccato ricami ingenuamente fantastici certo ma adesso non so più non distingo più era il quartiere così vuoto e malinconico a chiedermi quel contributo di coloritura era l'amore a rendermi così suggestionabile o non era ancora una volta mister Silvera a manovrarmi sapientemente a evocare quelle immagini con la voce le pause le esitazioni eravamo entrati nel ghetto vecchio che era poi appresi più recente di quello cosiddetto nuovo più vecchia era stata solo la fonderia e ci eravamo fermati a leggere l'ormai quasi illegibile lapide murata a pochi metri oltre la porta secoli di piogge di nebbie di venti avevano a poco a poco espunto dal marmo ogni severità burocratica così che adesso quello screpolato elenco di divieti e di pene aveva qualcosa di desolatamente cartaceo come di vecchia e sbiadita lettera che sia rigorosamente proibito a qualunque ebreo ed ebrea dopo fatti cristiani il capitare e praticare sotto qualsivoglia pretesto nei ghetti di questa città di introdursi nelle case particolari di alcuni degli ebrei o ebrei sotto pena in caso di trasgressione di corda prigione galera frusta berlina ed altre maggiori ad arbitrio di loro eccellenze avuto riguardo alla qualità del delitto e del delinquente il decreto mi spiegò David riguardava i marrani visti dovunque come portatori di ambiguità di opportunismo di doppiezza convertiti per necessità o per calcolo questi infelici erano sorvegliatissimi dalla repubblica che li sospettava di praticare in segreto la vecchia religione vittime di spie delatori ricattatori non erano amati da nessuno non erano niente per nessuno nemmeno per se stessi e io lo vidi traditore rinnegato marrano che sgattaiolava rasente i muri si nascondeva nell'ombra dei portoni mentre dalle finestre donne dagli occhi debano e solenni vegliardi lo guardavano con infinito disprezzo e quasi mi chiasi se non fosse davvero lui David Silvera oggi un traditore se di lì non venisse tutta la sua elusività di mystery man un uomo doppio un agente doppio forse nemmeno ebreo in realtà uno che si infiltrava nel mondo con un passaporto falso capace di ogni abiura di ogni volta faccia e disperatamente infelice lo guardai aveva un'aria divertita che c'era di tanto divertente pensavo a quei cristiani che sotto Nerone o Diocleziano non se la sentivano di farsi mangiare dai leoni ce ne saranno pure stati no? nessuno ne parla mai di questi non eroi nessuno li ricorda con una statua una via eppure ci vorrebbe poco come indirizzo non sarebbe neanche male piazza dei non martiri cristiani 18A sì ricordo di quella visita anche le risate come quando mi parlò della disputa delle gondole un talmudista dottissimo ma spregiudicato o forse soltanto pigro argomentava che andare in gondola di sabato era perfettamente lecito data la conformazione della città la questione fu a lungo discussa ma alla fine prevalsero i rabbini più conservatori la gondola di sabato restò a sur proibita continuiamo per la calle di ghetto vecchio oltre la sinagoga spagnola e quella levantina tra nudi strapiombi di case tutte le case erano di un'altezza inverosimile qui perché gli abitanti avevano dovuto sfruttare al massimo la ristretta zona assegnata le finestrelle erano fittissime schiacciate disordinatamente le une sulle altre e dallo stato lebroso degli intonaci e dei davanzali si sarebbe detto che nessuno abitava più quei tuguri come dopo un pogromo o una pestilenza ma le intelaiature erano quasi tutte di alluminio adonizzato e qua e là ornate da festoni di biancheria che pendevano inerti nell'aria inerte chissà se gli inquilini sono ancora ebrei David non lo sapeva ma sapeva che molti erano stati portati via anche di lì al tempo dell'ultimo massacro gli presi il braccio mi strinsi a lui tu allora dovevi avere pochissimi anni no? e dov'eri? beh disse lui ero già allora un po' di qua e un po' di là piuttosto sballottato per quello che posso ricordare ma è stato così che ho potuto cavarmela ho avuto fortuna oltre il ponticello sul rio il campo di ghetto nuovo era triste e grigio una vasta padella era schiata andammo a sederci su una panchina e David mi baciò leggermente e mi disse che tra i tanti divieti fatti agli ebrei c'era anche quello di fornicare con donne cristiane fossero pure prostitute e la pena? secondo la gravità dello scandalo ma noi due per esempio? una gentildonna? ma suo marito l'avrebbe mandata in convento per un po' che noia e tu? sei mesi o un anno di prigione più non so quanti zecchini d'ammenda dei bambini correvano rapidi e striduli come gabbiani colorati calciando una palla tra i pochi alberi spogli David raccolse da terra un volantino rosso che annunciava una liquidazione di borse e valigie dalle parti di rialto così erano pressa poco disse le ricevute dei prestasoldi del ghetto rosse o verdi o gialle una folla di veneziani poveri riempiva ogni giorno il campo portando ai tre banchi dei pegni laggiù sotto il lungo portico i suoi oggettini d'oro e d'argento e tornandosene a casa con quei foglietti multicolori rilasciati dai vampiri giudei ma i vampiri giudei non avevano nessuna voglia di fare i vampiri ci rimettevano imploravano continuamente il governo di esentarli da quel compito ingrato e rovinoso ma continuamente il governo rifiutava i prestiti ai poveri erano un problema sociale e ci dovevano pensare gli ebrei a risolverlo anche in perdita se no niente permesso di soggiorno niente rinnovo della condotta una specie di ricatto una specie di tassa ma anche a venezia potevano cacciarli via in qualsiasi momento sì ma con un minimo di riguardo un certo preavviso gentili vedevo david salire gradino dopo angusto gradino fino al settimo piano di una di quelle case altissime e annunciarmi io mi ero convertita che era finita che ci cacciavano via dovevamo prendere le nostre poche cose la sua sfiancata valigia e andarcene ma dove chissà in giro per il mondo a Corfu a Salonicco a Negroponte dove capitava ma era pazzesco non c'era sicurezza non c'era futuro non c'era durata non era una vita ma non era una vita dissi ah disse Mr. Silvera mi fissò con quella che mi parve una sconsolatezza insostenibile e dopo un momento lasciò cadere il foglietto rosso tra i gusci di noccioline e le foglie secche ah ripetè senza più guardarmi precipitai c'era sentii con disperazione qualcosa che questa volta davvero avrei dovuto capire e che se non capivo era solo per colpa mia perché non ero all'altezza un uomo basso tozzo con un giaccone di velluto sbucò dal fondo del campo frenò a poco a poco i suoi passi indecisi e si fermò infine con le mani in tasca a guardare i bambini che giocavano la vita non solo degli ebrei ma di tutti anche la mia era così precaria minacciata appesa a un filo revocabile sempre da un momento all'altro era questo forse che aveva cercato di dirmi e che io non riuscivo a capire che non c'erano mai vere sicurezze per nessuno mai vere radici in nessun posto che lo stesso Chaser galleggiava labilmente sull'acqua e poteva andarsene anche lui chissà dove allontanarsi alla deriva verso Corfu Smirne Antiochia Costantinopoli Luke Luke mister Silvera la palla rotolò ad agio verso l'uomo col giubbone che si tolse le mani di tasca preparandosi al tiro era per questo allora che gli ebrei erano sempre stati odiati e perseguitati perché negavano l'illusione della durata il sogno della stabilità incarnavano il transito irrimediabile su questa terra di tutte le cose anche dell'amore in primo luogo dell'amore i bambini si erano fermati attento concentrato l'uomo prese la mira col piede calciò con forza e mancò completamente la palla che proseguì la sua fiacca corsa sul selciato del campo ma va là cosa ti vuol zogar urlò uno dei bambini altri due corsero a recuperare la palla andiamo via dissi alzandomi l'uomo ricacciandosi le mani in tasca si avviò con la sua mortificazione verso uno dei due ponti noi ci allontanammo verso l'altro e ad animare il ghetto non restarono che le grida dei bambini tra felate e decrescenti grazie a tutti